Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizziamo insieme questa scatola, porta e tutto, confezione regalo barra pacchetto regalo, che può essere un'idea originale per ammetterci all'interno qualcosa che vogliamo regalare, oppure possiamo semplicemente usarla come centrotavola, come cesto natalizio, quindi questa è proprio una vera e propria scatola, vedete, col coperchio che io ci ho legato sopra il nastro, proprio come se fosse un vero e proprio pacchetto, e poi la scatola realizzata così, un quadrato con la fettuccia, poi io l'ho foderata, ma potete benissimo lasciarla sfoderata, perché è come fossero i cestini fatti di fettuccia e qui quasi mai nessuno lì fodera, quindi questo va a vostra discrezione, però questo risultato mi piaceva perché era un'idea un po' originale e non molto vista, una cosa un po' insolita, quindi spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere nei commenti, io vi lascio il tutorial e vi mando un bacione enorme, vi ricordo che è nato un gruppo, Mari e le amiche incinettine, su Facebook, dove potete iscrivervi e dove possiamo scambiarci idee, foto delle vostre creazioni, di schemi, di tutorial e quant'altro, quindi mi raccomando se foste interessati vi lascio il link in descrizione e iscrivetevi al gruppo, un bacione enorme, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa scatola, un pacco regalo natalizia è della fettuccia, una bobina di fettuccia, io utilizzo questa qua da 500 grammi e un uncinetto numero 8 con cui andremo a lavorare questa fettuccia, dopodiché se volete ulteriormente abbellire il vostro pacco regalo, la vostra scatola vi consiglio di procurarvi del nastro dorato, argentato, natalizio, a rete, luccicante, quello che più vi piace, proprio per decorare ulteriormente la nostra scatola. Vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.merceriamari.it Allora, per iniziare il nostro lavoro dobbiamo andare a fare un cerchio magico, come primissima cosa, in questo modo, e adesso all'interno del nostro cerchio, che andiamo ad allargare un pochettino, lavoriamo due catenelle che sostituiscono la nostra prima mezza maglia alta, più altre due. Dopodiché dobbiamo andare a lavorare tre mezze maglie alte, quindi una, due e tre, tutto all'interno del nostro cerchio. Poi facciamo di nuovo due catenelle, una e uno due, e di nuovo un gruppo di tre mezze maglie alte, quindi una, due e tre. Adesso facciamo di nuovo due catenelle, e di nuovo tre mezze maglie alte. Una, due e tre, e abbiamo uno, due, tre, quattro angoli, ci manca l'ultimo, tre angoli, ci manca l'ultimo, due catenelle, più altre, solo due mezze maglie alte, perché la terza sono le due catenelle che abbiamo fatto all'inizio. Quindi solo più due mezze maglie alte, e ci uniamo con una maglia bassissima nelle due catenelle iniziali che avevamo fatto. In questo modo. Abbiamo i quattro angoli del nostro quadrato, vedete, lo vediamo già adesso. L'unica cosa è che adesso dobbiamo andare a chiudere il nostro cerchio, a stringerlo, ad ottenere il nostro quadratino piccolo, 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 con il cerchietto il più piccolo possibile che è riuscito al centro. Vedete, io ho tirato un sacco, veramente tantissimo, proprio perché non volevo che rimanessero molti buchi, e quindi questo è il risultato. Vedete che abbiamo proprio un cerchio dove i nostri gruppi di tre maglie alte con le catenelle formano gli angoli, i quattro angoli del nostro quadrato, abbiamo un quadrato, scusatemi. Quindi una volta ottenuto il nostro quadratino, adesso andiamo a ingrandirlo girandoci attorno, lavorando maglia bassa, proprio perché io non voglio che resti una lavorazione bucata, deve rimanere il più compatto possibile perché è una scatola. Ok, quindi adesso noi ci troviamo qui, facciamo una catenella e una maglia bassa nel primo punto che incontriamo, che è la prima catenella che compone l'angolo. Quindi qui vado a fare una maglia bassa, poi sono esattamente in corrispondenza dell'angolo, quindi devo aumentare, devo fare due catenelle perché si formi proprio l'angolo. Dopodiché sulla seconda catenella qui del giro precedente del mio buchino vado di nuovo a lavorare una maglia bassa. E vedete che così si è formato già subito il mio primo angolo, sono le due catenelle che compongono l'angolo. Adesso lavoro una maglia bassa per ogni punto, quindi davanti a me devo lavorare due maglie basse. Così, voilà. Adesso ne lavoro un'altra in corrispondenza della prima catenella del secondo angolo. Faccio di nuovo due catenelle che mi permettono di comporre l'angolo e di nuovo sulla seconda catenella del giro precedente e vado a lavorare un'altra maglia bassa. Vedete, in questo modo ho creato il mio secondo angolo. Dopodiché lavoro di nuovo le mie due maglie basse, una e una due, e sono di nuovo tre, scusatemi, ne lavoro sempre tre, perché una è sulla prima catenella che incontro. Così, adesso sono proprio sull'angolo, vedete che devo girare perché non ho più altre maglie da poter lavorare, allora come giro facendo due catenelle e subito vado a lavorare di nuovo le mie maglie basse. Quindi una, due, tre, e un'altra che è già sulla catenella dell'angolo precedente. Così, adesso di nuovo vedete che ho lavorato tutte le mie maglie e sono obbligata a girare perché da questo lato non ho più niente da poter lavorarci sopra, quindi giro sempre facendo due catenelle e subito vado a lavorare le maglie che mi restano e che mi trovo nel giro di sotto. Così, due, trovo già subito qui la mia catenella d'inizio e mi vado ad unire con una maglia bassissima in modo da chiudere il giro. In questo modo. E adesso torniamo, facciamo un altro giro, sempre girandoci attorno così e sempre facendo due catenelle per formare gli angoli. Vedete che si sta creando questo quadrato. Quindi di nuovo, adesso parto lavorando la mia una maglia bassa, la prima, e poi ne lavoro un'altra che è la mia prima catenella, diciamo, del giro precedente che formava l'angolo. E di nuovo vedete che mi trovo costretta a girare. Tutte le volte che io mi trovo costretta a cambiare lato e a girare, devo fare le mie due catenelle. E poi vado a lavorare tutte le maglie che mi si presentano sotto. Quindi una, due, vedete, tre, quattro. Devo di nuovo girarmi, quindi andremo a fare due catenelle. E riprendiamo a lavorare dall'altro lato una maglia bassa per ogni punto. così di nuovo mi trovo costretta a girare, quindi due catenelle e cambio lato. di nuovo devo girare per l'ultima volta in questo terzo giro. E di nuovo vado a lavorare tutte le maglie sottostanti che mi si presentano. e vedete che ho un quadrato notevolmente più grande. E proseguo in questo modo, quindi tutti i giri nello stesso identico modo di questo, fino ad aver ottenuto la base della mia scatola che mi occorre. Quindi in centimetri devo raggiungere una dimensione che mi mi piace e che vada bene a quello che mi serve. Quindi lavoreremo sempre una maglia bassa per ogni punto. E quando dobbiamo cambiare lato, dobbiamo sempre ricordarci di far due catenelle. Proprio perché resti un quadrato. Quindi procediamo fino ad aver raggiunto la dimensione che ci occorre. Guardate, ho terminato di realizzare il fondo della mia scatola. e in totale ho fatto sei giri, tutto attorno, quindi sei giri, per un totale di 20 centimetri. Quindi adesso dobbiamo proseguire e alzarci per creare l'altezza della nostra scatola, che è un quadrato, quindi sarà di altrettanti 20 centimetri. Quindi come fare per salire? Facciamo una catenella, in questo modo, e giriamo il lavoro, in modo che il dritto della nostra lavorazione resti da fuori. e poi prendiamo a fare una maglia bassa per ogni punto sottostante, senza più né aumentare né niente, semplicemente andiamo a lavorare un punto per ogni maglia. Vedete? Una maglia bassa. E poi si. Ops. E vado, vedete, a salire. Guardate, questo è il risultato, ho terminato il primo giro e ho già iniziato il secondo. E adesso dobbiamo continuare così a salire fino ad aver raggiunto l'altezza desiderata. Io in questo caso farò un quadrato, quindi salirò per 20 centimetri. E dopodiché vi farò vedere come fare il coperchio. Guardate, ho realizzato la mia scatola, alla fine ho deciso di fare 12 giri per un totale di altrettanti centimetri, quindi è alta 12 centimetri. Non volevo farla 20 perché mi sembrava esagerata, quindi ho deciso di fermarmi qua a questa altezza. Adesso vi faccio vedere come realizzare il coperchio. Allora, per prima cosa dovete fare una base quadrata esattamente come il fondo, solo un giro più larga. Quindi io qui, prima vi avevo detto che avevo 6 giri, adesso qui ne ho 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 più il centro. Quindi questa è la base e se io vado a metterla sopra vedete che è leggermente più grande della mia scatola, proprio perché questo è un coperchio e si deve incastrare. E va un pelino più grande. Adesso, come abbiamo fatto prima, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia per un po' di giri, io direi 3 o 4, in modo che il coperchio venga con uno spessore più o meno di questo tipo. Quindi non è assolutamente niente di complesso. È come fare un'altra scatola, un fondo solo leggermente più largo e adesso andremo a lavorare le nostre maglie basse per un tot di giri. Quindi vedete che io adesso qui vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto, per un totale di 3-4 giri, poi vedete appunto voi in base a quali sono i vostri gusti e le vostre esigenze. In questo modo. Guardate, questo è il coperchio, alla fine ho realizzato 3 giri di bordo, 1, 2 e 3, e poi dopo ho trovato questo bellissimo nastro plisettato color oro e sono andata a cucirlo, vedete qui all'interno, nei 4 punti, e dopo l'ho semplicemente legato e ho formato un fiocco, proprio come dovessi impacchettare una scatola. No, perché questo è proprio l'effetto che noi vogliamo avere, quello di scatola regalo. Guardate un po', a me piace, mi piace, sono contenta del risultato, è una cosa un po' particolare, quindi spero che piaccia anche a voi, a me è piaciuta abbastanza appunto. Fatemelo sapere nei commenti, se provate a realizzarlo, aspetto le foto delle vostre creazioni, io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video. Buon Natale a tutti! Ciao!